Salve a tutti! È da tanto tempo che volevo fare questo video, ma ho preferito studiarmi con calma l'argomento, vista la sua complessità. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Foldit. Foldit è un videogioco il cui scopo è nobile. Studiare il ripiegamento delle proteine per fini di ricerca scientifica. Voi vi chiederete, ma perché ho deciso di recensire un gioco del genere nella rubrica Random Gameplay, dato che qui i livelli casuali non c'entrano nulla? Beh, vi risponderò con una domanda. Perché creare dei rompicapo casuali quando la natura e gli scienziati passano la loro vita a risolvere rompicapo reali? La natura è talmente ricca di problemi da risolvere che di fatto ogni problema sarà diverso dall'altro per il giocatore, che si ritroverà quindi a giocare livelli di gioco sempre diversi. Per lo più aiutando l'umanità. E' con questo spirito che nascono questi videogiochi. Si prende un problema reale molto complesso, si crea un videogioco per cercare di risolverlo e poi ci si affida ai videogiocatori. Questo tipo di approccio alla ricerca fa parte di tutta quella corrente di pensiero denominata Citizen Science, che porta a coinvolgere persone comuni per aiutare gli scienziati. Il gaming non è l'unico approccio di questo tipo. Un altro modo che le persone comuni hanno per aiutare i ricercatori è ad esempio fornire parte della potenza di calcolo inutilizzata dei loro computer. Questo approccio è denominato calcolo distribuito e permette a tutti, grazie a piattaforme come Boeing, di aiutare gli scienziati impegnati in numerosi campi che vanno dalla medicina, alla fisica ed anche alla ricerca di segnali alieni provenienti dallo spazio. Il link al progetto Boeing lo trovate in descrizione. Un'altra famosa piattaforma dedicata all'analisi di dati scientifici da parte di comuni cittadini è il progetto Zooniverse. Su Zooniverse vi troverete ad analizzare grafici ed immagini per conto di grossi centri di ricerca sparsi in tutto il mondo ed impegnati in campi che vanno dall'astronomia all'ecologia. Anche il link di questo progetto lo trovate in descrizione. Tutti questi approcci hanno ovviamente sia dei risvolti tecnici sia dei risvolti etici importanti di cui, a mio parere, il potenziale giocatore dovrebbe tenere conto e di cui parleremo dopo, per adesso concentriamoci su Foldit. Per parlare di Foldit con un minimo di chiarezza è necessario capire quale problematica si prefigge di risolvere. Per iniziare farò una breve lezione di biochimica su cosa sono le proteine. So che è un argomento complesso, ma cercherò di essere il più chiaro e conciso possibile. Se avete nonostante questo dei dubbi potete usare i commenti. Le proteine sono alcuni fra i principali mattoni di tutti gli organismi viventi, costituendone sia buona parte della struttura sia la gran parte di quei sistemi che ne regolano il metabolismo e le reazioni chimiche. Le proteine sono costituite da catene di mattoncini chiamati amminoacidi. La struttura di una proteina dipende da quali amminoacidi è costituita e dall'ordine con cui questi sono disposti in sequenza. La sequenza di questi amminoacidi, che sono sempre disposti uno in seguito all'altro come i vagoni di un trenino ed è nominata struttura primaria. Ogni amminoacido è chimicamente diverso dall'altro e questa diversità garantisce alla proteina finale proprietà uniche, ma anche una forma unica. Infatti, a differenza di altre catene chimiche di questo tipo, le proteine non rimangono delle catene lineari una volta sintetizzate, ma tendono invece a raggomitolarsi su loro stesse. Questo succede perché i mattoncini di cui sono costituite tendono ad interagire fra di loro, facendo in modo che porzioni anche distanti di questa catena si avvicinano perché attratti da vari tipi di forze elettrostatiche. Le strutture tridimensionali più semplici creabili tramite questo sistema sono l'alfa elica ed il foglietto beta. Entrambe queste strutture sono ben visibili in foldito come eliche o barre. Le strutture alfa elica e foglietto beta sono denominate strutture secondarie. Le strutture secondarie così formate possono poi interagire fra di loro per creare un raggomitolamento ancora più complesso chiamato struttura terziaria ed infine diverse catene di proteine così ripiegate possono a loro volta interagire fra di loro e creare strutture quaternarie. Lo scopo di Foldit è appunto cercare di dedurre la struttura tridimensionale delle proteine conoscendono l'ordine della sequenza di amminocidi di cui sono costituite. Conoscere questa forma è molto importante in quanto il funzionamento delle proteine dipende dalla loro forma. Ad esempio un particolare tipo di proteina, chiamato enzima, è in grado di effettuare sintesi chimiche perché nella sua struttura 3D possiede una tasca apposita per questo scopo. Conoscere la precisa struttura di questa tasca può ad esempio essere utile per costruire un farmaco in grado di entrarci dentro in modo selettivo, con l'intendo di bloccarne l'azione. Questo ad esempio può essere utile per creare nuovi farmaci contro enzimi di batteri, virus o tumori. Tuttavia dedurre la struttura 3D a partire dalla sequenza di amminoacidi non è un compito semplice e richiede una potenza di calcolo enorme. E fra l'altro anche agendo così spesso i risultati sono pessimi. Il creatore di Foldit, ben consapevole di questo problema, un giorno ebbe l'idea di dare al suo bambino tramite un videogioco il compito di ripiegare una proteina su cui stava lavorando. Dopo averlo lasciato giocare per un po', con stupore si accorse che l'infante aveva risolto da solo ed in pochi minuti il problema su cui intere reti di calcolatori ed equip di scienziati avevano lavorato fallendo miseramente. Da quel momento il videogioco si è diffuso in tutto il mondo, ha attratto tantissimi giocatori ed ha contribuito a scoprire la struttura 3D di migliaia di proteine. Personalmente ho trovato Foldit leggero ed abbastanza privo di bug se escludiamo qualche free hits, tuttavia il gioco è solo in inglese ed è molto complesso anche solo nel tutorial, quindi non lo consiglio ai casual gamers e da chi non conosce questa lingua. Il titolo è disponibile gratuitamente per Windows, Mac e Linux al link che trovate in descrizione. Consiglio questo gioco soprattutto agli amanti dei rompicapo, a chi vuole contribuire alla ricerca scientifica e da studenti ed insegnanti. Foldit è qui per ricordarci ancora una volta che i videogiochi non sono sempre diseducativi e violenti. Come già detto in introduzione è secondo me doveroso dare alcuni elementi tecnici ed etici al potenziale giocatore prima che questo decida di giocare questo titolo. Innanzitutto è bene sapere che giocando a Foldit i creatori del gioco acquisiranno dal tuo computer non solo i risultati finali dell'elaborazione ma anche le registrazioni delle partite ed un sacco di parametri statistici avanzati relativi alle tue performance. Questi dati sono utilizzati poi dagli scienziati per istruire delle intelligenze artificiali che si occupano di ripiegamento proteico, in modo da fargli fare automaticamente e senza intervento umano il lavoro fatto dai giocatori in carne ed ossa. È bene sapere di questo dettaglio prima di giocare, dato che non tutti potrebbero essere contenti di questa, fra virgolette, invasione della privacy. Un altro elemento etico importante per tutta la citizen science riguarda l'utilizzo dei dati, anche a scopo di lucro e con licenze chiuse, da parte degli scienziati. Sebbene infatti sia le partite a Foldit sia i progetti di calcolo distribuito siano fatti da migliaia di persone che investono tempo e soldi per contribuire, i ricavi di questi progetti non sono quasi mai diffusi con licenza libera, ma invece affidati a riviste scientifiche e da case farmaceutiche che ci lucreranno sopra. Ovviamente non tutti sono d'accordo sul fatto che il lavoro di tanti volontari vada a beneficio di pochi e soprattutto non sia sempre liberamente accessibile. Fare un tutorial completo in italiano di Foldit avrebbe comportato la creazione di un video molto lungo e con spiegazioni ancora più complesse, motivo per cui ho evitato di inserirlo in questo video. Se tuttavia la cosa vi interessa fatemelo sapere nei commenti. Devo ancora una volta constatare che, anche questo gioco, non è stato minimamente trattato dalla community di Youtube Italia, nonostante sia ormai disponibile da diversi anni. Sperando di aver fatto cosa gradita nel farvelo conoscere vi do il solito arrivederci alla prossima. Grazie.